Questi segnali di ripresa da Ferrari vengono confermati in questo... ...destro oppure Santone a sinistra, però insomma, alla fine i titolari erano 13 nell'Inter, 14 non di più. Centrocampo in particolare è sempre stato quello. La Super Mario, l'intraversione di Balotelli con Curci che lascia scivolare... ...ha visto scivito con la sovrapposizione di Chilmo, appena la palla è arretrata la difesa del... Ibra, controllo di Ibra che accelera, Ibraimovic si allunga... ...tutto molto bene, poi voleva il taglio... ...no! ...47, Barbadiglio, ve lo ricordi? ...e come? Geronimo Barbadiglio. ...caccio di punizione a... ...fasile di dannonieri, premio. Barriera che si è anche... ...vuole Ibraimovic, ha cercato di calibrare una palla difficile all'interno destro. ...dalla seconda palla... Ibra. Fallo su Ibra, calcio di punizione. Se fosse l'unica volta quando la Juventus è arrivata... ...caccio di punizione per l'Inter. ...per l'Ibraimovic all'interno dell'area. ...passa un'altra di quelli... ...quello che basta sempre... ...un po' calato almeno in questo avvio, palla in fallo laterale. Comunque l'Inter quando accelera e soprattutto riesce a cambiare gioco e trovare giocatori... ...buono che... ...caccio di grande festa. ...la partita è quello che è, ma insomma lo si sapeva anche prima. ...è arrivato alla segnalazione ma è rientrato da una posizione di fuori gioco. Mourinho chiede a Baresi quanto manca. Ieri in conferenza stampa Mourinho aveva detto... ...non ho una punta di riserva, eventualmente farò giocare Materazzi là davanti. E Santon, vediamo se è proprio il posto di Ibra. Il mucco, se non sbaglio, Zidane. Ha iniziato tristissimo. Poi si è messo a giocare in terza divisione francese. Pensava di uscire lui. E penso anch'io, sì. E si esce figo. ...a toccare, si era fatto sentire, perché era sulla traiettoria... ...ma Stancolic ormai era partito in serie. E sì, c'è un caso nella partita, se vuoi, questo match, questo testa a testa continuo... ...fra Ibrahimović e Mourinho. Prima nel caso, guardate il cartello, aspettava il... ...intanto ci sono... ...in pallo laterale. ...vabbè, tutti gli interessati. Prima ha fatto una bellissima giocata. Lui, con Quaresma, in una stagione... ...ecco il cambio, fuori ballo di Libra. Grande barbiere, parocchiere, vive il suo. Ha rimesso l'operale ancora per il sieno. Coppola con questa regolarità era sempre stato un giocatore fortissimo è diventato un fenomeno quando è riuscito a essere più freddo sotto porta la cosa che gli diceva sempre anche Capello tra l'altro Stefano De Grandi sta Bordogallo ha visto? L'ho tenuto dentro ha fatto il ventiduesimo gol e si rilassa l'ho mandato a quel paese perché ha detto no e comunque Ibrahimo deve giocare fino alla fine infatti vedo lì che è contentissimo di questa cosa guardalo Cesar questa non è una standing commission questo è un tripudio tutto meritato viene portato in trionfo Giulio Cesar tutto meritato una stagione incredibile perché l'Inter si è basata ad esempio che ti guardano insomma sulle Montari Montari come può le qualifiche dalle 13.30 e poi domenica la gara dalle che ti guardano ma è una stagione che ti guardano Grazie a tutti.